Il castello fu all'inizio, una postazione strategica della loro confine tra Valachia e Transilvania e di difesa dagli ottomani. Il castello in muratura fu eretto nel secolo successivo e nella sua storia ebbe modifiche ed ampliamenti nonché diverse destinazioni. Nel 1920 divenne dimora estiva dei sovrani del Regno di Romania, in particolare il raggredito alla Regina Maria che lo ristrutturò. Resta però sempre un brutto castello. Dopo la formazione della Repubblica Romena gli eredi dispersero tutti gli eredi per rimpiazzarli con altri mobili. Il castello ha ispirato lo scrittore Brian Stoker per il suo romanzo di Dracula ma non è il castello di Vlad l'imperatore. L'associazione alla storia del romanzo e ai successivi film di Dracula ha portato le attuali fortune turistiche commerciali del castello di Bram organizzati in forma americana per il massimo profitto dagli eredi la trasferitesi. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ciao! 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 Ciao!